Ha detto che aveva della febbre ma non è riuscita a contattare il suo medico curante. Quella che fu la sala operativa della prima zona rossa d'Italia nella prefettura di Lodi da oggi è la centrale, prima in Italia, di assistenza medica immediata ai cittadini con sintomi che non riescono a contattare il proprio medico di base. Può dare quelle risposte iniziali, tecniche e può far inserire il soggetto in quel contesto di assistenza o con il proprio medico di base o se fosse un caso più grave nel sistema provinciale di assistenza sanitaria per dare una certa tranquillità. Chiamando il 116 o il 117 si viene poi ricontattati dai medici, 10 in tutto ne lavorati, per le indicazioni necessarie e le informazioni trasferite al medico di base o alla centrale della SST. Io dicevo prima 80-90 telefonati al giorno, darci una scheda con già un filtro preselezionato della sintomatologia che ha il paziente. Questo è importante, penso che ci snellisca. L'obiettivo è alleggerire la pressione sui pronto soccorso dell'Odigiano che nel weekend hanno avuto un picco di accessi. Abbiamo costretto l'azienda a chiedere al 118 un rallentamento temporaneo per quanto riguarda i nuovi accessi. Ieri sera abbiamo ricominciato a prendere pazienti, abbiamo dovuto riconvertire rapidamente altri letti. Un nuovo progetto di supporto alla medicina territoriale, anche un videomessaggio del governatore Fontana.